Video eccezionale, video eccezionale! Stavo per fare il video sulla Coca-Cola e sull'orologio digitale e cosa succede? Apro il tappo e scoppia la Coca-Cola. Incredibile! Come abbia sfogato e non sono riuscito a riprendere il tutto. Perché volevo fare questo video? Vedete che già che ci siamo, allora, è come aver già fatto il video. Stavo per fare il video di fare una bella pulizia molto profonda al lavandino. Come fare? Usare la Coca-Cola. E infatti, qui vediamo lavandino così, guarda, Coca-Cola con lavandino dappertutto, ma con perfezione e orologio digitale in Coca-Cola. Così si pulisce anche l'orologio, già che ci siamo. Benissimo. Cosa fa la Coca-Cola? Pulisce anche le intubazioni. Perfetto! Coca-Cola. Ehm... Wow! Ha scoppiato anche la bottiglia. Colpa di lattazione termica dovuto al caldo e al freddo. Ok. Comunque dovete vedere come ha sgasato subito, scoppiato la Coca-Cola appena aperto il tappo. Wow! Video! Guardiamo l'orologio digitale che si è disinfettato da solo, pulito in automatico con la Coca-Cola. Wow! Video! Fantastico! Questo è un video! Questo è un wow video! Questo è un video!